E' bello sti armi Ammazza che E' un troll Oh mio dio ragazzi 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 io ve lo dico Non mi insultate Ma fuckerò tantissimo con questo mouse E' troppo Fottutamente leggero Mamma mia belle armi Ragazzi mi devo Ragazzi è troppo strano Ragazzi 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 ok questo pure è morto ops vi giuro è una cosa troppo strana è una cosa veramente troppo strana però per prima armi come mouse attenzione mouse consigli io ve lo dico sempre i mouse sono una cosa personale ragazzi sono veramente una cosa personale cioè dovete provarli mo non prendiamoci in giro se vi dicessi un'altra cosa sarebbe una cazzata i pompi in stamattina sono rari meno male se no sarebbe una cazzata allucinante andiamo un po' ma l'am ah ma non c'è l'oltre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti mi sento stranissimo questo ma wow your boy's on fire your boy's on fire guys oh 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 Sì Bello sto razzo Ho sparato sui piedi Che schifo Porca troia Ho sparato sui piedi Madonna mia ragazzi Quanto offri per il final nero? Ce l'hai milanista? E' serio? No ragazzi mi sento veramente strano con questo mouse Non sto scherzando No il mouse l'ho preso da Max Gaming Perché sul sito ufficiale non spediscono fuori dall'America Quindi devi utilizzare un retail Regà è una sensazione stranissima Cioè io sento solamente i gommini perché sono fatti con la merda No 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 Non capisco che cazzo mi ha sparato Allora Fai l'ho visto No 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 Non so veramente utilizzarlo questo mouse Porca troia Ragazzi è veramente complesso da utilizzare perché è troppo veloce Mi sa che devo abbassare addirittura la sensibilità è troppo veloce Che cazzo Che cazzo è? E mo che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo è? Grazie a tutti Ma che cazzo era? Olle! 21 kill Ma che era, raga? Da fuck Ciao!